buonasera ciao a tutti benvenuti a distanti di badminton siamo ben all'ottava stagione sessanta tresima puntata non poco allora se vi ricordate nelle scorse puntate abbiamo visto questi esercizi che abbiamo chiamato esercizi a triangolo perché il giocatore si muove diciamo disegnando un triangolo allora andando subito a condividere il campetto ecco se vi ricordate avevamo qui il feeder viola dall'altro lato del campo e il giocatore arancione che faceva un colpo a questo lato del campo si muoveva in avanti faceva un altro colpo si muoveva indietro eseguiva un altro colpo e così andando ripercorrere questo triangolo abbiamo visto degli esercizi dove il giocatore arancione a fondo campo giocava drop e vicino alla rete giocava net piuttosto di giocare drop a fondo campo e alla rete giocare spin piuttosto che giocare clear a fondo campo e alla rete giocare lift allora cos'è che ci manca ci manca sicuramente lo smash e il net sempre muovendosi su questo triangolo e poi ovviamente come vi dico spesso x alte variazioni possono essere eseguite mantenendo il triangolo o perché no anche andando a cambiare la figura geometrica quindi invece di far muovere il giocatore su un ipotetico triangolo si va a far muovere il giocatore su un quadrato quindi immaginate un colpo qui un colpo qui un colpo qui ok un colpo qui e poi possiamo fare parte del giocatore di nuovo da qui oppure di nuovo da qui quindi dopo aver effettuato un colpo da qui si sposta sull'altro lato e riparte anche qui andando a cambiare sempre eventualmente i colpi che può eseguire o dalla rete o eseguire da fondo capo e che dire anche che possiamo andare a integrare queste figure geometriche quindi possiamo andare a far giocare il giocatore su un primo giro facendogli disegnare un triangolo che farà l'esercizio che noi vorremmo in secondo giro senza far cadere il volano andiamo magari a fargli fare un triangolo rovesciato ok quindi in questo modo ok un terzo giro dove andrà a eseguire un esercizio muovendosi su un quadrato ok oppure un altro giro ancora muovendosi su un triangolo però con l'apice spostato verso la linea laterale quindi un colpo qui un colpo qui un colpo qui il giro successivo un colpo qui un colpo qui un colpo qui ecco vedete quante cose si possono fare utilizzando innanzitutto la fantasia ma anche andando molto balenalmente a vedere una partita voi andate su youtube vedete una partita una partita dal vivo ma la cosa bella che su youtube posso fare pausa e quindi andarmi a rivedere anche lo scambio e vedere come il giocatore si è mosso su un triangolo su un quadrato su un esagono su un rombo e andando a ricreare un po le stesse concatenazioni dei colpi negli allenamenti veramente tutto tutto molto semplice andiamo a vedere il video eccolo qui quindi vediamo sempre questo caso angelica che vedete va a fondo campo smash e net la rete smash sul lato sinistro e net di diritto smash sul lato destro e net di rovescio rimata bassa smash e net e questo è il triangolo con lo smash e net quindi poi con quel classico come dire modalità del badminton dove eseguendo uno smash si segue e si va avanti soprattutto tra l'altro ieri abbiamo fatto proprio un webinar sul singolo soprattutto se si va a attaccare in una zona di attacco totale quindi andiamo a rimettere il nostro campetto il nostro campetto era questo qui e allora se il nostro giocatore arancione che sta facendo l'esercizio e attacca da qui in avanti ok questa è la zona di attacco totale dove devo fare devo è una buona idea giocare smash e poi andare velocemente la rete un po come stava facendo angelica diverso è se invece il giocatore attacca da una zona definita di costruzione dell'attacco quindi diciamo da qui ok a qua poco prima della linea del servizio da doppio fino alla linea finale del campo qui allora se attacco in partita devo attaccare magari con dei drop con gli stick smash non con uno smash al cento per cento posso attaccare con dei colpi tagliati e seguirò sicuramente avanti ma non velocemente con prepotenza come quando attacco da una zona di attacco totale ok perfetto ma andiamo allora subito vedere le variazioni e possiamo fare su questo esercizio come al solito ve ne propongo qualcuna e la prima azione quale potrebbe essere che il feeder gioca dei net delle difese perché comunque il feeder sta difendendo uno smash delle difese un pochettino più alte in modo che il nostro giocatore invece di andare a giocare il net andrà a giocare un block mi è arrivato un golano un po più alto ok ovviamente non avrà senso giocare un net da qui ma giocavo un block quindi l'esercizio si trasformerà in smash seguerete block smash seguerete block e sarebbe un'ottima idea se il feeder andasse proprio volutamente a variare l'altezza delle sue difese perché poi si vanno a ricreare quei cambi di colpi anche cambi di grip che succedono in partita in base a dove io ricevo il volano se adesso sinistra o se più basso o se più alto quindi io come il feeder volutamente farò difese un pochettino più basse o più precise così il mio giocatore andrà a giocare nel difese un pochettino più alte così il mio giocatore andrà a giocare il block quindi poi nello stesso esercizio che sarà smash net può diventare smash block smash block smash net e in questo modo sto allenando anche il mio giocatore a riconoscere l'altezza del volano e giocare un net piuttosto che un bloc e anche cambiare impugnature perché se gioco un net o un grip a v di base se gioco un bloc sul diritto o un grip a padella se gioco un net sul lato di rovescio o un grip ad angolo se gioco un bloc sul lato di rovescio o un grip a pollice e sto usando tutte le quattro impugnature a v ok a padella ad angolo a pollice e vedete che quindi diventa un esercizio anche per cambiare impugnature e poi è fondamentale che il feeder dia le variazioni ok perché se il feeder difende sempre nello stesso modo quindi non si applica a giocare un po più basso un pochettino più alto è chiaro che il giocatore arriverà sempre più o meno alla rete giocando sempre al suo colpo quindi vedete come le variazioni del feeder sono fondamentali l'altra variazione che possiamo fare è questa qui che il feeder viola ok sempre il nostro feeder viola sullo smash quindi immaginate il giocatore arancione che attacca il giocatore arancione attacca con lo smash ecco il feeder viola pronto con la racchetta cercando di anticipare il più possibile lo smash fa a giocare una difesa molto veloce e precisa molto bassa per forzare il giocatore ad arrivare basso allora se il giocatore arriva da basso c'è stato poi un momento ad esempio nell'esercizio che ho fatto Angelica che è arrivata bassa magari perché è attaccato fuori equilibrio o perché io ho difeso molto preciso ecco se arriva bassa quindi qui è una buona idea giocare un lift perché in partita potrebbe essere molto vantaggioso giocare un lift in modo che io possa rialzarmi e riprendermi l'equilibrio nello scambio successivo e allora giocando un lift e allora giocando un lift quindi immaginate Angelica che viene avanti gioca un lift ok un lift il feeder dovrà andare dietro e giocare di nuovo rispettando il triangolo quindi in questo caso il feeder giocherà un clear qui Angelica tornerà indietro e è rispettato il triangolo perché da questa posizione Angelica ha giocato lo smash è arrivata ma alla rete perché io gli ho messo pressione sulla difesa gioca il lift e poi ritorna qua e si ripartirà con lo smash ma vedete che è sempre il feeder che deve dare le variazioni vedete quanto importante le variazioni e a me piace molto quando la tecnica è abbastanza presa e quindi va bene poi fare il multi feeding abbandonare il multi feeding e fare tutte esercitazioni con un solo volano quindi non con tanti volani che ti lancio perché questo esercizio vedete si può fare si può fare anche con multi feeding a me piace molto con un volano perché perché la condizione reale io vedo spesso molti allenatori che fanno tanto tanto troppo multi feeding va bene dipende dal contesto dipende cosa si sta allenando a volte poi dipende anche dal periodo ma la condizione ideale reale è un volano solo in campo anche perché io giocatore prendo il tempo sul volano ribattuto dal feeder e io feeder anche devo un po' aiutare in questo caso a far prendere il tempo al giocatore quindi ad esempio con angelica spesso uso multi feeding quando devo insegnare un colpo nuovo quando il colpo più o meno lo sa fare non continuo a fare multi feeding multi feeding ma metto subito l'esercizio con un volano solo in modo da renderlo il più veramente reale possibile ecco dicevamo comunque le variazioni del feeder sono importanti per far fare delle scelte al giocatore e se andiamo a rivedere ad esempio il filmato di prima c'è stato proprio un'occasione dove angelica è arrivata male a rete ecco vediamo dove qui no arriva qui arriva alta qui fa lo smash e arriva abbastanza bene qui fa lo smash e io difeso molto vicino alla rete lei arriva bassa ecco qui capite che se in partita gioco un net io spingo il volano qua e lo scambio è finito quindi per quello che vi dicevo il feeder deve dare delle variazioni in modo poi da far capire al giocatore tramite anche l'allenatore che ecco in quell'opportunità se arrivi bassa alza pure quindi immaginiamo come abbiamo visto prima angelica gioca al lift e io da fondo campo gli rigioco il clear qui e si riparte con la routine e quindi vedete ricreare poi queste situazioni di gara ricrarle in allenamento è fondamentale perché poi in gara si riesce a riconoscerlo ma se io in allenamento mi alleno poco gioco solo partite o non faccio questi esercizi diciamo pensanti dove richiedo al giocatore di pensare grazie alle variazioni del feeder o dell'allenatore dell'altra parte è poi difficile che in partita si faccia la scelta giusta soprattutto perché in partita poi c'è lo stress della partita lo stress che ti mette la partita che tu ti metti perché stai giocando nella partita che ti mette l'avversario che ti mette i compagni di squadra il tuo presidente il tuo allenatore il contesto il pubblico o l'importanza dell'evento perché magari siamo i campionati italiani ok vediamo un'altra e l'ultima variazione che vi propongo stasera su questo esercizio è sempre una variazione di feeder andiamo a rimettere il campetto quindi abbiamo sempre il nostro triangolo ok due variazioni mi propongo ancora scusate me ne propongo ancora due e quando il feeder alzerà magari leggermente più laterale con una traiettoria magari un pochettino più tesa ecco quindi con la seconda traiettoria che vedete il giocatore potrà saltare fuori sul volano ed eseguire uno stick smash quindi volutamente a volte il feeder fa queste traiettorie un pochettino più tese quindi intercettabili intercettabili da parte del giocatore che ovviamente proiettorie del volano che non facciano finire il volano troppo a fondo campo ma volano che cada qua per far giocare lo stick in modo da cambiare un pochettino anche l'attacco al fondo campo quindi non solo smash full smash ma anche stick smash ecco per chi magari non si ricorda bene la tecnica dello stick smash lo stick smash è questo lo vediamo sempre nei video presi da youtube che trovate sempre su youtube sul sito della FIBA ok ecco questo è il nostro stick smash che sul lato di diritto quindi lato destro viene eseguito con il salto fuori ok quindi vedete che ecco i piedi non fanno il salto a forbice non fanno non passano piede destro da posteriore ad anteriore ma si atterra in questo modo si vede poi bene quando c'è l'immagine a tutto campo ecco se voi guardate scusate torno indietro se voi guardate qui ok sulla destra ecco guardate immaginate proprio l'esercizio il triangolo io ho ricevuto un volano non troppo alto non troppo lungo qui e ci salto dentro con un salto fuori e gioco lo stick ok perfetto e quindi questa può essere la prima variazione che appunto su quel lato di diritto il giocatore vada a giocare lo stick lo stick si può fare anche sul lato di rovescio non ve lo faccio vedere perché è un pochettino più complicato sicuramente sul diritto è più facile altra variazione che possiamo fare è che il feeder appositamente va a giocare un lift un pochettino più d'attacco quindi immaginate il giocatore ha giocato smash viene avanti il giocatore gioca net ok il feeder gioca un lift ok un pochettino più teso quindi non giocherà un lift così alto per far attaccare il giocatore ma giocherà un lift per mettere il giocatore leggermente sotto pressione a fondo campo e allora lì cosa potrà giocare il nostro giocatore potrà giocare il famoso pool che è quel colpo che viene colpito diciamo di fianco all'altezza della testa che mi permette di giocare questa traiettoria attesa lontana dalla rete ed evitare che poi il giocatore dall'altra parte mi giochi degli spin e quindi ad esempio su quel lato il nostro giocatore può eseguire il pool di rovescio che andiamo a vederlo andiamo a vedere il pool ok e questo è il pool di rovescio quindi immaginate l'esercizio con il giocatore che ha ricevuto il volano gioca questo pool e poi andrà avanti a giocare il net si è arrivato alto alla rete si è arrivato molto molto alto a giocare il block si è arrivato basso a giocare il lift e vedete quante variazioni gli abbiamo già dato a questo esercizio questa sera del triangolo ecco questo è il pool ecco vediamolo qui sulla lato destro quindi immaginate è arrivato un lift eso adesso qui c'è il feeder che lancia il volano e io gioco questo pool in modo da liberarmi della pressione a fondo campo e quindi vedete questo triangolo che partite con lo smash net può essere poi variato con lo smash oppure lo stick a rete seguendo col net col block oppure col lift se arrivo basso a fondo campo variato con il pool se il feeder mi ha giocato un pochettino teso un pochettino di messo pressione e andando a giocare questo triangolo in modo continuativo quindi rimettiamo il campetto disegno solo il giocatore che si muove immaginate le scelte del feeder dall'altra parte potrebbe essere smash e poi gioca net potrebbe essere pool poi arriva a bassa e gioca lift poi potrebbe essere stick arriva alta e gioca block potrebbe essere di nuovo smash arriva alta e gioca net potrebbe essere di nuovo stick arriva bassa e gioca lift e via dicendo e altre variazioni che ovviamente voi potete creare dando al feeder le istruzioni di variare ovviamente poi motivandolo anche al giocatore quindi questo è l'esercizio che vi ho proposto stasera mentre tra due venerdì che tra l'altro sarà l'ultimo incontro di distanti di bambito di questo 2023 vi prego l'annuncio che poi ovviamente continueremo nel 2024 da febbraio faremo febbraio, marzo, aprile, maggio andremo a vedere appunto tra due venerdì l'ultima esercitazione un pochettino più lunga sempre andando a disegnare come abbiamo fatto in tutte queste ultime puntate questo triangolo benissimo 21 e 20 intanto vi ringrazio perché nonostante il weekend lungo siete 64 siete tantissimi e se avete qualche domanda forse ce n'è una sì Sergio Garzotto della Valle d'Ostria mi chiede ciao Fabio stick e kill impugnatura diversi ma che movimento fa l'avarbracci webinar del giovedì saranno disponibili su YouTube allora Sergio Garzotto i webinar del giovedì non sono disponibili perché siccome sono a pagamento giustamente non li mettiamo su YouTube perché sennò chi ha pagato dice beh ma cavallo pagato potevo poi guardarmi di gratis quindi non sono non li metteremo su YouTube quelli e mai chiesto le impugnature impugnature dello stick lo stick viene bene con l'impugnatura di base meglio ancora se con l'impugnatura di base leggermente tendente verso una padella quindi io sono un giochettore destro oriento poi la racchetta verso sinistra però rimane la V però questo impugnatura leggermente tendente verso la padella mi aiuta a colpire meglio colpire più forte quando vado a fare il kill se faccio il kill sul lato del diritto faccio un kill lungolinea uso la padella se faccio un kill sul lato del rovescio uso il pollice se voglio fare il kill anche dando le traiettorie diverse se sul lato del diritto uso il grip di base il grip a V e gioco il kill il volano va incrociato se gioco sul lato del rovescio voglio giocare un kill incrociato e metto il grip ad angolo il volano andrà incrociato sarà un kill incrociato quindi vedete perché è fondamentale insegnare le impugnature perché insegnare le impugnature che sono quattro mi dà poi delle sfaccettature diverse posso giocare lungolinea piuttosto che incrociato posso giocare più pieno o maggiormente pieno se inclino verso la padella come vi ho fatto vedere prima lo stick posso tagliare il volano o tagliarlo molto di più se vado un pochettino a fare delle sfumature sull'impugnatura e quindi l'impugnatura è uno sport di racchetta se non si ha le impugnature corrette è veramente impossibile raggiungere ottimi livelli nel bando ok quindi Sergio io ho risposto benissimo se avete qualche qualche altra domanda potete pure pormela scrivendo domande e risposte anche domande non inerente a quello che abbiamo fatto stasera se volete alzare la mano vi accendo il microfono se volete farmi la voce e se no vi ringrazio tanto per avermi fatto compagnia anche questa sera e ci vediamo per l'ultimo distante di Bambiton del 2023 tra due venerdì e ci facciamo così poi gli auguri di Natale e di buon anno grazie a tutti e a prestissimo ciao buona serata a tutti